160 anni fa moriva padre Eugenio Barsanti, sacerdote scolopio e pietrasantino inventore del motore a combustione interna insieme all'ingegnere lucchese Felice Matteucci. Pietrasanti ha reso omaggio al suo illustre cittadino al quale nel tempo ha dedicato musei, scuole, strade con una intensa mattinata di cerimonie promossa dall'amministrazione comunale. In sala dell'annunziata presenti circa 70 studenti delle medie Barsanti. Fra gli interventi quello del presidente del premio internazionale Barsanti Matteucci, Andrea Biagiotti ma anche di alcuni giornalisti delle riviste di settore automoto.it e quattroruote intervenuti come relatori per sottolineare l'importanza storica dell'invenzione del motore. Il sindaco Alberto Giovannetti nell'occasione ha annunciato l'intenzione di trasferire il museo del motore a scoppio intitolato a Barsanti dalla sede attuale di Palazzo Panichi alla casa natale dell'inventore in via Mazzini. L'auspicio, affermato il primo cittadino, è che entro fine anno o al massimo nei primi mesi del 2025 il comune possa entrare nella disponibilità di tutti gli spazi dell'immobile per poi procedere con la sistemazione e il progetto di allestimento del nuovo spazio museale. L'obiettivo dell'amministrazione è di renderlo sempre più fruibile a residenti e visitatori. E proprio di fronte alla casa natale di Via di Mezzo si è chiusa la cerimonia con studenti, relatori e sindaco riuniti per il consueto omaggio istituzionale e la deposizione della corona d'alloro. Grazie. Grazie. Grazie.